Non tutti conoscono la storia di Monsignor Alberto Vassallo, nunzio apostolico a Monaco di Baviera, nunzio apostolico nato e morto a San Cataldo. Chi era? Alberto Vassallo è una figura poco conosciuta anche a San Cataldo, era stata un po' dimenticata, addirittura la sua tomba era in mezzo a quella di tutti gli altri preti e la Cappella del Clero. Cinque anni fa è stato il cinquantesimo della sua morte e attraverso un libro di studio e di ricerca abbiamo ripresentato la figura di Monsignor Vassallo e fatta conoscere. Tanto si è riscoperta l'importanza di questo personaggio che ebbe un ruolo fondamentale nella politica e nella storia, quella con la S maiuscola, perché si trovò a essere nunzio apostolico a Monaco di Baviera proprio mentre vi era l'ascesa al potere di Adolf Hitler e quindi del nazismo. In quel momento lui ebbe un ruolo molto importante all'interno della Chiesa e all'interno della storia. Finita questa fase poi lui rientrò nei ranghi vaticani e poi tornò a San Cataldo dove morì a 94 anni facendo numerose opere di bene. Oggi se ne torna a parlare perché la Dioce si riceve un quadro in donazione. Di chi? Il quadro è di Peter Hirsch, un pittore tedesco che negli anni 30 del 1900 ritrasse appunto Monsignor Alberto Vassallo quando era nunzio in Germania. Rientrando poi Monsignor Vassallo portò con sé in Sicilia e precisamente nella sua terra di origine a San Cataldo il quadro e acquistò una villa, Villa Bagheria, che con l'intenzione di donarla poi successivamente ai gesuiti, così come fegge, il quadro lo portò con sé proprio a Villa Bagheria. Successivamente poi questa villa gli acquistò dal principe Galletti di San Cataldo. Successivamente i gesuiti vendettero questa villa e portarono tutto quanto l'arredo e insieme questo quadro nella loro residenza a casa professa a Palermo. E lì è rimasto da circa vent'anni. Gli eredi, in particolare la signora Gabriella Urso, lo aveva già visto, ammirato e si era diciamo così affezionata e inveghita di questo quadro già quando era a Villa Bagheria. Successivamente portato a casa professa si è interessata e nello stesso tempo ha invitato il nostro vescovo a prendere, a creare una relazione con il superiore dei padri gesuiti, Monsignor Francesco Paolo Rizzo, il quale quando appunto il nostro vescovo ne ha fatta richiesta perché potesse rientrare nella sua sede di origine, di origine del Monsignore, lo ha richiesto appunto ai gesuiti che si sono detti ben contenti di restituirlo. Allora, di Monsignor Fassallo si conosce appunto questa sua attività come nunzi apostolico, ma lui fu molto impegnato anche a livello sancataldese. Lui andò dal rettore maggiore dei Salesiani per chiedere che venissero a San Cataldo, fu lui a stimolare la nipote Marianna Amico Roxas a costituire la compagnia di Sant'Orsola, quindi portò le orsoline nella nostra diocesi, fu lui che riattivò la confraternità di San Cataldo, rifece lo statuto, quindi ebbe un impegno importante. Fu lui tra i fondatori della Cassa Agraria e della Cassa Operaia, che poi diventarono la Cassa Tognolo, la Banca Tognolo e la Banca Don Bosco, poi acquistata dal credito siciliano, quindi le due banche locali di San Cataldo. Ma quello che non si sa e che ho trovato di recente, ricercando negli archivi comunali, è che Monsignor Fassallo fu anche consigliere comunale a San Cataldo, fino alla sua nomina l'arcivescovo, quando si dimise perché chiaramente doveva andare all'estero, e fu anche tra i dirigenti dell'ospedale Maddalena Raimondi. Quindi un impegno sociale, sia a livello sociale che a livello ecclesiastico.